Dobbiamo utilizzare sempre più lo strumento comunicativo per, attraverso i nostri ragazzi, sensibilizzare noi, la nostra generazione, il certo grande di noi, che troppo ha sbagliato, perché possa contribuire a divertire la lutta. E dobbiamo fare quindi fondamentale, centrale, diventa sempre più il cittadino. La raccolta differenziata non la fa la zona ambiente, è simile con l'assessore del Consiglio, la raccolta differenziata la fa il cittadino. Se differenzi in maniera corretta, hai una buona raccolta differenziata. E quindi tutto questo è fondamentale. È fondamentale che questo messaggio noi siamo in grado di veicolarlo in maniera costante, con incontri. Questo è l'inizio, ma dobbiamo andare in altre scuole, nei contorni. E dobbiamo, sostanzialmente, soprattutto, che pervenga quello che è il principio, il tradito da tutti, che è in dimostrazione alla presenza di Aurore e Kimberly, guardando e utilizzando in senso musico i bambini. Perché? Perché solo attraverso loro, che potremmo raccogliere l'obiettivo di migliorare, cioè in tutto quello che sarà la nostra città. Quindi, grazie a tutti e buona notte.